Buongiorno Fabrizio, è arrivato l'inverno, cosa consiglio subito in auto? Ciao Paolo, sì, cosa consiglio? Volevo innanzitutto raccontare il fatto che all'interno del nostro ampio parco auto abbiamo veramente vetture dedicate alla sicurezza, alla trazione integrale e al tempo libero. Abbiamo macchine che vanno dai 1.900 euro ai 30.000 euro, che sono SUV, trazione integrale, dalle Panda, i Freelander, i Land Rover in generale. Quindi all'interno di questa cambia... Last night, we called it all, like we do now and then.